Questa mattina Giuseppe Di Martino, l'architetto di 45 anni iscritto nel fascicolo per omicidio volontario per la morte del padre Giovanni, 73enne meccanico in pensione, è comparso all'interno del carcere di Castrogno davanti al GIP Domenico Canosa, che al termine dell'interrogatorio ne ha convalidato il fermo. L'indagato, diverso dall'avvocato De Maio, ha ripercorso quanto avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì scorso nella cucina della casa dove vivevano padre, madre e figlio. Secondo la ricostruzione del figlio, che da un anno era tornato con i genitori dopo un lungo periodo passato in Brasile, il decesso sarebbe avvenuto accidentalmente a seguito della violenta lite tra i genitori che egli avrebbe cercato di sedare. Il Di Martino ha confermato ciò che, bene o male, erano le risultanze della fase investigativa eliminare. Ha confermato che purtroppo tutto quello che è successo è frutto di fatalità e dello scontro che ha avuto col padre, null'altro. È stato confermato quindi l'arresto? L'arresto al momento sì. Si è riservato il GIP sulla misura restrittiva in carcere. Dobbiamo solo aspettare l'esito, la riserva del giudice stesso. Oggi sul giornale c'era scritto anche di un referto di un anno fa circa dove c'era stato un incidente analogo. Anche in questo caso ha risposto tranquillamente l'indacato, chiarendo che è stato un caso fortuito, è caduto per le scale e mi pare non ha neanche sporto querela e c'è stata anche una testimonianza. Direi che è un fatto totalmente diverso da quello che è stato fosse rappresentato dal Pubblico Ministero come una sorta di aggravante del reato contestato oggi. Di Martino come l'ha visto? Martino è molto provato, è molto scioccato, ma è abbastanza tranquillo anche perché è consapevole di non aver cagionato volontariamente la morte del padre. Quindi un incidente? Sicuramente un incidente, sì. Grazie.